Katia, allora il pallone è questo grande sconosciuto o questo grande compagno di una vita, tu hai una vita che corri dietro a un pallone, l'idea del tu da sempre, che cosa ha rappresentato in questa tua lunga fase agonistica appunto la sfera di cuoio? Ma sicuramente un amore infinito e che non finisce mai, lo dimostra anche il fatto che io faccio la collezione di palloni, magari questo tu non lo sapevi però dal pallone piccolo al pallone classico di cuoio a quello che mi sono fatta dare una volta in nazionale come ricordo insomma di questa grande gratificazione, allo stesso pallone del beat soccer nel senso che appunto a me il pallone piace sotto qualsiasi forma e sotto qualsiasi dimensione, rappresenta tanto nella mia vita, effettivamente è tanti anni che lo inseguo, quello calcio e comunque spero ancora a lungo di poterlo avere come compagno, come amico in quanto è un aspetto veramente molto importante della mia esistenza senza francamente farei fatica a vedermi e quindi ancora non ci voglio pensare più di tanto. E noi non ci facciamo pensare.